Asana voleva convincermi a scrivere una lettera a Federico. Perché io non riuscivo a scriverla. Cioè, provavo in realtà a scriverla a Fede. Solo che... a me veniva da scriverla a te. E perché non mi hai scritto? Non ti ho mandato. Però tu hai scritto. Non è che fanno la lezione. No. Qualino? Qualino è in cesena. Quali? 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 Allora, questo corso diciamo che è lo... Perche ti sei fermato? Smettila di pensare al futuro. No, godiamoci questa cosa ogni giorno, con serenità. Facciamo un gioco. Si chiama Martino e Niccolò, minuto per l'unito. Funzione che praticamente dobbiamo pensare soltanto al minuto successivo. Ci stai? Che bella persona che sei. Grazie. Prego. La famiglia non c'entra con il sangue e con il tempo. A volte non se la conoscono, anche se conosciuta da poco può essere così importante e speciale per diventare una piccola. No, 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 no. Oh, you run away, cause I don't know what you found. Oh, you're in my veins and I cannot get you out. Oh, you're in my veins and I cannot get you out. Oh, I cannot get you out. Oh, I cannot get you out. Oh, I cannot get you out. Vai. Di mese. Niente. Oh, you're in my veins. Oh, you're in my veins. Beh forse il destino vuoi che ci mettiamo tutti a viso te lo stessi Ok, allora lui è Rami e lui è il mio Grazie a tutti